Buon pomeriggio, buonasera a tutti i nostri lettori e un benvenuto di cuore a Cristina Comencini e al suo nuovissimo libro che si intitola L'altra donna appena pubblicato da Einaudi. Si tratta di un romanzo molto coinvolgente e vedremo insieme a lei come e perché sono pagine che vedono il lettore entrare a poco a poco e a un certo punto ritrovarsi a far parte della storia senza essersi reso quasi conto che stava entrando dentro la storia. Pensavo una cosa, Cristina Comencini avrebbe dovuto essere qui fra noi dal vivo ma purtroppo la situazione è quella che tutti conosciamo nel mondo, non solo in Italia e quindi siamo qui vicine ma a distanza e mi veniva in mente che in fondo questo paradosso è un po' quello che potremmo definire quasi il filo conduttore del romanzo. Noi adesso siamo distanti fisicamente ma senza mascherina, se fossimo vicine o vicini saremmo tutti con la mascherina che è un elemento imprescindibile, doveroso e che tutti dobbiamo indossare nella nostra vita diciamo sociale ma che in fondo un po' ci nasconde. Ecco il fatto che per vedersi in viso bisogna stare lontano in questo periodo mi sembra un po' quasi la cifra di questo romanzo, nel senso che è quasi il cuore del libro. I personaggi, soprattutto le donne ma non solo, si conoscono e si guardano in faccia nel loro passato, nel loro vissuto e nel loro presente solo perché è passato del tempo e c'è una distanza anche fisica. Che cosa ne pensa Cristina Comencini di questa interpretazione, di questa inattesa attualità proprio stretta di questo romanzo? Diciamo intanto buonasera, mi dispiace moltissimo non essere a Torino anche perché è una città che amo molto e qui sono venuta varie volte per lavoro e mi dispiace d'altra parte bisogna accettare la realtà. Dunque sì, no, l'accetto molto volentieri, anzi allargo perché in realtà io qualche giorno fa ho fatto un articolo per Repubblica in cui parlavo delle relazioni e delle tracce delle relazioni a distanza anche nella fisica, cioè quello che resta è molto più importante di quello che noi vediamo. In realtà sì, è così nel romanzo ma forse nella letteratura anche. Si riflette, si capiscono le cose quando sono passate o comunque lontano, come se avessimo bisogno di inquadrarle in qualche modo. In questo caso tutte queste persone sono state insieme, tutte sono state insieme. Sono state insieme tra amici come Rita e Pietro, sono state insieme come moglie e marito soprattutto facendo tre figli, sono state insieme come la ragazza e il professore più grande e sono state insieme anche come figlio, perché c'è un figlio che a un certo punto entra. E quello che loro, in fondo il romanzo è come se dicesse, quello che loro credono fossero eventi separati, sono legati, sono legati perché il passato entra nel presente, lo condiziona, lo cambia, anche se noi pensiamo ogni volta di vivere una cosa completamente nuova, ci portiamo dietro a questa cosa e in fondo è una ricchezza, anche se è disturbante, anche se è difficile perché vorremmo essere sempre dei bambini leggeri pronti a non avere problemi e invece non è così. Credo che questo paragone che hai fatto sia una cosa vera per il romanzo e per la situazione di oggi, perché è vera questa cosa qua che la lontananza fa sì che possiamo stare senza mascherine. L'unica cosa che è il punto interrogativo è l'assenza dei corpi. L'assenza dei corpi sia in questo momento, ma forse anche nel libro, perché nel libro quello che in fondo nessuno di loro vede, che invece i corpi portano la memoria. I figli sono l'incarnazione stessa delle storie che sono, e la ragazza pure rispetto ai suoi genitori. Dunque quello che forse non è così somigliante alla situazione di oggi è il fatto che i corpi sono importantissimi nella relazione. Sì, è molto vero questo e c'è, pur essendo un romanzo che appunto affronta questa scoperta dei personaggi l'uno dell'altro attraverso la distanza, che sia anche la distanza, non vogliamo svelare troppo, ma di un'identità fasulla, anche quella distanza aiuta, è assolutamente necessaria per capire chi siamo e chi sono. Però è anche vero che c'è una grossa dose di fisicità e di corpi, perché questi corpi che si sono incontrati e che in qualche modo si incontrano anche nel presente della narrazione attraverso la memoria e il dare senso a questi incontri fisici, cioè questi incontri fisici e i racconti anche che Elena fa nella memoria della propria relazione, in qualche modo rendono più intensa la relazione ora che non c'è più. Passiamo un po', diciamo, a un altro tema, mamma, non mi piace la banalità mai, ammetto che sto per dire una cosa un po' banale, ma necessaria, e cioè che si tratta di un romanzo molto femminile e molto al femminile. Io ho avuto come l'impressione che i personaggi maschili, che sono tanti, che a volte in alcuni casi sono come dire fissi nella storia, altri vanno e vengono dalla storia, siano un po' tutti delle ombre, mentre si tratta di un romanzo in cui la vera scoperta reciproca è donna verso donna, che sia donna vera o donna immaginaria, come quella che in fondo innesca tutto questo dialogo che è il romanzo. Il romanzo è anche un dialogo, un dialogo continuo, no? Ma diciamo che questa cosa che dici è possibile, anche se io personalmente il personaggio di Pietro e di Francesco li ho amati tantissimo quando ne ha scritto, e Pietro soprattutto nel silenzio in tutto il libro e nella sua capitolo in cui lui parla, e si racconta con una sincerità totale e anche con qualcosa che io capisco, cioè il desiderio che nella moglie sussistesse qualcosa di giovane, non tanto nel corpo ma nel modo di vivere, e questo io sento che è un'istanza maschile che io riconosco come molto legittima, e anche il ragazzo mi piace molto. Ora ovviamente la protagonista è quella che parla, ed è la giovane, e dunque chiaramente è, io non lo so questa cosa del, credo che le scrittrici scrivano di uomini e di donne, ma il loro sguardo è spesso di una donna, anche se io mi è capitato di scrivere due romanzi in cui il protagonista era maschile, però è evidente che lo sguardo è quello, ma questo è interessante, cioè la cosa interessante sono le donne viste dagli uomini e gli uomini visti dalle donne, perché quello è la cosa che forse gli uomini non vedono e neanche le donne di loro stesse, dunque penso che sia, io personalmente quando ho scritto, quando ha cominciato Pietro a raccontare di sé, mi è sembrata un momento in cui si restabilivano delle cose, perché un mondo in cui non ci sono gli uomini è un mondo che impazzisce. Certo, però come l'impressione che, almeno questa è la mia impressione di lettura, che tutta la realtà, soprattutto la realtà passata, perché diciamolo è un romanzo che è soprattutto un romanzo sulla memoria, cioè tutto quello di cui si parla è qualcosa che è avvenuto e che in qualche modo non è più e che ha cambiato i protagonisti, però l'impressione sarà anche lo stile, il tipo di frase che usi, la forma narrativa, mi è parsa molto molto femminile per un verso e per l'altra quello che ho ammirato particolarmente in questa narrazione è la capacità di intrecciare. Il romanzo è un po' come un tessuto in cui veramente non ha una struttura tradizionale, ci sono delle figure e delle voci che si alternano e c'è sempre la percezione che quando qualcuno parla in realtà non parla solo di sé, ma parla di tutto quello che c'è intorno. Come hai lavorato a questo intreccio narrativo? Quello che tu dici esattamente era il mio scopo, cioè io volevo che questi personaggi, anche senza saperlo, fossero come contaminati l'uno dall'altro, legati, legati, infatti faccio questo esempio che appunto anche in questo articolo dicevo del microchimerismo, cioè delle cellule del DNA che rimangono nel cervello delle donne, che sono il DNA degli uomini con cui sono stati o anche dei bambini che hanno avuto. Cioè noi il romanzo, che è un romanzo che io ho scritto spinta da un desiderio di libertà, libertà, libertà di poter vedere le relazioni non con l'ossessività dei sentimenti che sono dentro e che ti dominano, come una sensazione Elena che è così giovane quando le capita questa cosa, ha solo 25 anni, però ne ha fatto e ne fa una visione come dall'alto di un aeroplaccio, vede questa storia, allora non è che loro sono freddi perché ci sono le lettere, perché ci sono i momenti terribili, però è come se avessero un modo di vederle che è allentato, in cui le tensioni, proprio perché ogni personaggio ha influenzato la vita dell'altro, l'ha cambiata, anche se non stanno insieme, sono legati, ecco questa sensazione del legame che forse è la vera felicità, cioè la vera felicità sta in tutte queste storie che sono legate tra loro. Mi è venuto così, anche se il mio lavoro sia nei romanzi che anche nel cinema è forse una delle cose che un po' mi viene e credo di sapere un po' fare, è quello del legare le persone tra loro, cioè di fare qualcosa che intanto le comprende tutte, dunque non sono soltanto una persona, perché anche in questo libro c'è forte l'idea di una storia collettiva. A me interessa molto, attraverso le storie dei personaggi, anche delle famiglie, dei legami d'amore, raccontare il nostro mondo, cioè quello che noi stiamo vivendo e che sta cambiando tutto, a parte il virus che ci sta cambiando completamente la vita, però è quello che mi interessa questa visione collettiva, per cui tanto più raccontare il legame tra le persone. Ma poi per esempio, faccio un esempio, anche se il tuo uomo ama un'altra donna, ma tu riesci a capirne le istanze sue, tue, dell'altra, si crea un tessuto connettivo che alla fine tutto quello che è ossessività o perdita non l'hai perduto mai, è come se fossero, è rimasto lì, sono storie, tutte sono storie. Certo, a incominciare da quella che possiamo definire centrale e che ancora torneremo, vorrei tornare con te dopo sulla questione dei legami e il tipo di legami e di sentimenti che anima questo libro, ma spieghiamo ai nostri lettori o aspiranti lettori un po' qual è la dinamica di partenza di questo romanzo. Ci sono due donne, due donne di età diverse, di esperienza diversa, che si incontrano perché tutte e due hanno avuto o sono state dello stesso uomo. Una è l'ex moglie, l'altra è questa giovane compagna, tutto proiettato nel passato perché ognuna di queste storie riguarda il passato e non il presente. C'è appunto questa distanza di cui dicevo prima che è un po' quella esemplata dal nostro comune destino con o senza mascherina, ma ci sono soprattutto queste due donne che nell'immaginario comune vediamo come rivali, dovrebbero essere delle rivali, anche se si tratta del passato, però insomma su questi sentimenti si fonda la propria vita e quindi una ex moglie tradita, anche se in modo diciamo non diretto, da una compagna, anch'essa tutto sommato lasciata, abbandonata alla vita per se stessa, dovrebbero essere a rigore il modello della rivalità sentimentale più classica. Invece nel libro succede qualcosa di molto diverso, allora puoi raccontare ai nostri lettori qual è l'intreccio, il legame tra queste due donne che non è quello che ci si aspetta? Diciamo che la storia dell'umanità e la storia della letteratura è punteggiata di rivali, cioè la figura della rivalità tra donna per un uomo è diciamo una delle cose più raccontate, allora qui succede il contrario, cioè succede un atto rivoluzionario che avviene con un inganno, cioè questo contatto pericoloso avviene con un inganno perché la donna più adulta contatta la ragazza su Facebook senza dire chi è, dunque la ragazza si apre e dunque è un inganno, un inganno che poi vedremo spinto da un'altra donna che è un po' il Deus Ex Machia che è Rita e dunque loro entrano in contatto, un contatto che non dovrebbe avvenire secondo le logica di quello che conosciamo e questo è stato lo spunto dell'inizio del romanzo, cioè che cosa avverrebbe e questo loro contatto pericoloso in cui si raccontano e c'è anche una storia generazionale perché la donna più grande potrebbe essere la madre della ragazza, hanno la stessa differenza d'età, si passano tra l'altro una grande esperienza tra una generazione e l'altra, ma anche fanno un po' crollare tutti i cliché e dunque mettono in pericolo il rapporto della ragazza con quest'uomo anche, nonché tutto quanto, è come se in qualche modo questo, la caduta della rivalità tra le donne, ma che poi non è caduta mai perché poi continua ad esserci nella realtà, però diciamo come ipotesi, coinvolge tutti quanti in qualcosa che ha dentro una pericolosità, però anche qualcosa di nuovo, una libertà maggiore e questo è un po' il libro, poi è il racconto di come questa cosa si trasformi, bisogna dire che poi noi diciamo di rivalità, ma l'altra donna è anche il mito dell'altra donna, ogni donna ha nella testa che l'altra è più giovane, più bella, più brava, sa fare meglio le cose, la storia delle donne è stata una storia dominata da una, diciamo, la sensazione dell'altra spesso come nemica, poi c'è anche grandi storie di amicizia, però diciamo nella maggioranza dei casi è quello e in questo caso qui questo contatto appunto preso con l'inganno a catena è come un effetto domino, fa accadere tutte le altre cose che si credevano, che si sapevano che erano così e questo secondo me è un po' qualcosa che nella nostra realtà un pochino è anche avvenuta perché le donne hanno tra loro una relazione leggermente diversa da prima, ancora non totalmente diversa, ma abbastanza diversa da prima. Certamente è la catena di reazioni che questa relazione prima solo epistolare, poi anche in fondo, però comunque questa relazione che si approfondisce via via e si svela perché a un certo punto l'inganno cede alla verità, però genera una catena di reazione che per il lettore sono totalmente imprevedibili, questa rivalità che possiamo immaginare in una situazione prevedibile appunto opposta a questa dovrebbe generare dei sentimenti, un certo tipo di sentimenti su quali vorrei tornare fra poco, in realtà genera tutt'altro, cioè genera delle reazioni, dei legami e delle emozioni completamente diverse da quelle che i canoni dovrebbero dire. Queste due donne si rapportano l'una all'altra, ma non è appunto, come dicevi, non è affatto un romanzo generazionale perché ognuna di queste donne non rappresenta uno stereotipo, non ha le reazioni che ci si aspetterebbe da una ragazza di 25 anni che si apre alla vita, che ha questa relazione che potrebbe essere in una certa misura, lo è anche travolgente, ma che poi diventa qualcosa di molto diverso, né tantomeno la moglie, l'ex moglie tradita, Maria, che in qualche modo si rivela un distillato, come dirti, di pazienza e anche di libertà. Se io dovessi incarnare la libertà in uno dei personaggi di questa storia, la incarnerai in lei, Maria, che pure è anche quella che di fatto sembra aver subito più di tutte le altre. Questo era lo scopo, lo scopo era che lei conquistasse tutte noi una libertà, ma anche lui, cioè il senso che non ci sono delle trappolone che l'altra ti tende, ma che c'è qualche cosa che avviene nella vita, che è una scelta. E allora, siccome non ci sono questi cliché, si può andare in fondo invece a qualcosa. Come andrà Elena mandando una lettera a Maria, che non ha mandato al padre, e così Maria manderà una lettera al marito, che non gliel'ha mai mandata, dunque si crea tra le donne una, come posso dire, con partecipazione emotiva talmente forte, talmente importante quello che si racconta l'uno dell'altra, lei dei suoi genitori e Maria del suo matrimonio, della maternità. Questi temi sono talmente enormi e non sono mai passati tra loro veramente, che tutto quello che è il tradimento, stai con una donna all'altra e tutto, diventa come dei nani, come una cosa piccola piccola, perché in realtà la scoperta è il fatto del raccontarsi come sono andate le cose nella tua vita, come vanno oggi, come andavano negli anni in cui Maria era giovane. E questo è la libertà assoluta di non essere chiusi in un imbuto di sentimenti compulsivi, angosciosi, ma di vedere le storie come dei racconti di vita che sono in ogni caso. Questo non annulla la gelosia, ovviamente gelosia è un fatto normale, è un sentimento che abbiamo sempre tutti, chi più chi meno, però gli dà una grande portata di conoscenza l'uno dell'altro. Dove c'è questa conoscenza? E per questo penso che anche Pietro, quando si fa conoscere, perché gli uomini parlano un po' meno di tutto questo, lui a un certo punto decide di farsi conoscere e si fa conoscere a Elena, perché Elena è la voce narrante del libro, con una sincerità, perché dice tanto è inutile, io ti racconto chi sono, dai, del bene e del male. Ecco, mi veniva in mente una cosa che io cito molto spesso, perché amo molto questa frase, amavo molto l'autore di questa frase, che era Amos Oz, un autore che ho accompagnato nella traduzione italiana per molti anni, e lui diceva la letteratura per definizione è pettegolezza, assomiglia al pettegolezzo, però bisogna fare attenzione a una distinzione importante, perché il pettegolezzo riguarda gli altri. In un romanzo invece dovremmo avere la forza non di cercare il pettegolezzo sull'autore o sui personaggi, ma su noi stessi, cioè ritrovare nei romanzi e nei personaggi quelle cose di noi che facciamo fatica ad ammettere, che forse neanche conosciamo, ma soprattutto che ci risultano scomode. Ecco, in questo caso dovessi analizzare il mio rapporto con il tuo romanzo è un po' quasi l'opposto, nel senso che io con le mie fragilità, le mie debolezze, i miei difetti dico ma io non ce l'avrei fatta a mettere sul piatto questi sentimenti, non ce l'avrei fatta a sfuggire ai sentimenti più banali, agli impulsi più banali, invece questi personaggi e soprattutto le due donne sembrano veramente sfuggire in continuazione a quello che sarebbe l'impulso comune di fronte alle cose che vivono e anche a quelle che ricordano, perché anche quando ricordano e quando Elena racconta di questo strappo familiare terribile, quasi intollerabile per tutte noi, invece lo fa con una pacatezza e quel distacco, ma che non è un distacco emotivo, ecco questa idea di, e lì vorrei arrivare e ne parliamo direi d'ora in poi perché in fondo ne abbiamo già parlato, in questo romanzo la cosa strabiliante è che i sentimenti e le emozioni che racconta sono tutti assolutamente non convenzionali nel contesto in cui sono posti, cioè questi personaggi hanno dei comportamenti e delle reazioni emotive fuori dai canoni, ecco questo è stato per te naturale o è, come è avvenuta questa, questo scegliere dei personaggi tutti straordinari al loro modo nel loro reagire alla realtà che li circonda? Ma io credo che è come, questo romanzo è come se fosse un, una torta lasciata riposare, cioè è come se, è come se, è come se, è come se il distacco dei dieci anni che sono passati in cui Elena ormai è diventata una donna grande, dunque si risolve, si ricorda anche di come era a 25 anni e anche il rapporto col padre e con la madre, benché abbia, contiene tutti i sentimenti forti che hanno, lei le ridà quei sentimenti, però sono stati filtrati dalla conoscenza, dalla conoscenza l'uno dell'altra, soprattutto delle due donne, ma anche perché l'abbiamo un po' dimenticata dalla storia che sta dietro le spalle di Rita, che è una storia durissima e quella storia è durissima ed è una storia che l'ha fatta spingere, ha fatto sì che spingesse Maria a dire valla a conoscere, cerca di conoscerla, non è che tutto è come noi pensiamo, non è che tutto è come, non dobbiamo avere paura di tutto, cioè questo è un libro anche che va contro la paura dell'altra, perché l'altra è un essere umano, diciamo ecco, è un altro essere umano e dunque credo che quello che volevo fare, partivo io nei miei sentimenti riguardo a Maria, riguardo a Elena, partivo io stessa da un sentimento di desiderio di saggezza libera, cioè il desiderio che non perché non si possono provare più sentimenti, altro che d'amore, di passione, ma perché devono tenere conto di quello che è avvenuto e tenendone conto tutto come se, come quando una rete di pescatori si ingroviglia e cerchiamo di aprirla. Dunque questo penso che è assolutamente così, poi voglio dire una cosa che a Mosò ci manca troppo, ci mancano i suoi nuovi libri, moltissimo, io l'ho incontrato una volta e ne ho ricordo molto vivido, anche un bellissimo uomo, i suoi libri, ogni volta che usciva un libro si comprava. Adesso purtroppo deve ancora uscire in italiano, che ho finito, adesso poi chiudo la parentesi, il suo primo libro che sono dei racconti bellissimi, ancora ci regalerà, ma poi… Sì, è come Singer che ogni tanto si tirano fuori dei vecchi, perché lì c'era tutto un archivio di libri non pubblicati. Invece nel suo caso… No, lui aveva pubblicato tutto. Ecco, allora forse questa cosa che dicevi sulla conoscenza mi aiuta molto a capire una cosa che forse non avevo capito leggendo il libro, è che queste due donne hanno un rapporto con Pietro che non è di possesso. Maria l'ha avuto come moglie, però curiosamente quello che dice è molto vero, cioè tutti e due nel momento in cui parlano tra loro, ricostruiscono in fondo la storia di un matrimonio, ne vedono le parti più fantastiche. Cioè non… è come se raccontando questa storia anche di sofferenze, perché comunque Maria soffriva di questi tradimenti, soffriva della sua subalternità, molto forte, ci sentiva la subalterna. Elena piano piano capisce che lui la mette in un ruolo di eterna ragazza che è stretto, vorrebbe avere dei figli pure lei e non li può avere. Però il modo in cui loro parlano di lui è un modo ricco, ricco di cose che hanno vissuto insieme, sia la ragazza che le moglie. E questo, nei fatti, smussa tutta quella parte, diciamo, di… non c'è odio in questo… Non c'è odio proprio forse perché hanno un rapporto entrambe, pur nella differenza di età e di circostanze. Non vorrei dire è evoluto, però la tentazione del possesso in un legame affettivo c'è sempre, con i figli… Io sono una possessiva terribile. No, no, infatti mi faccio molti riprovi di questo, dico calmati un po', io sono molto così e credo che siamo anche così e lo sono state anche queste due. Però il libro racconta questa conoscenza di sé e dell'altro e soprattutto ridimensionando questa mitologia dell'altra, curiosamente opera una… come un calmarsi dei sentimenti più possessivi, perché l'altra non è quella che te l'ha portato via e neanche per Rita, Rita la storia brasiliana secondo me è molto importante perché è una storia durissima, la più dura di tutte. Non è l'altra, l'altra, è che le cose sono andate così perché lui ha voluto questo e l'altra ha voluto questo perché tu hai voluto una cosa, cioè ne ridai il senso proprio dell'accadere, cioè che le cose accadono e che tu non sempre sei né colpevole, né l'altra lo è ma che accadono e accadono soprattutto in un mondo fragile, perché tutto al libro racconta una fragilità dell'amore, molto. Sì, però nello stesso tempo appunto questa assenza di possesso dell'uomo, cioè l'uomo come oggetto del possesso, non come soggetto, non determina una… non sono due donne arrese per niente, nessuna delle due, né Maria che ha dei pesanti trascorsi, né Elena che tutto sommato uno potrebbe interpretare come la vittima di questa storia, il bersaglio di un inganno e invece nessuna delle due ha… hanno forse della rassegnazione, ma nessuna delle due ha… lascia nel lettore l'impressione di donne che si sono arrese alla vita e agli intralci della vita e qui vorrei arrivare appunto ai sentimenti che io non ho trovato nel libro e che proprio per questo arricchiscono questa storia e la trovano e la rendono originale e nello stesso tempo dai… non voglio dire di esempio, però che aiutano a fare quel lavoro che chiede Amos Sos quando legge un libro. Quello che appunto mi è sembrato di non trovare o di trovare in una forma molto deformata è la gelosia, cioè queste donne che sia nel presente o nel passato, perché io credo che la gelosia, l'uomo o la donna gelosi lo sono tanto del presente quanto dei trascorsi di prima che la storia cominciasse, nello stesso modo. In questo libro la gelosia o è come dire trasfigurata in qualche modo. Ma è il primo sentimento che ti verrebbe la tentazione di trovare o di cercare in una storia di questo genere? Ma diciamo che prima cosa come artificio letterario, essendo che Maria l'ha entrata in contatto con l'inganno con Elena, non li può confessare, cioè li ingoia, ci sono i silenzi tra loro quando lei gli dice, lui non va mai fuori, sta sempre a casa e lei gli dice, ah, e si capisce che sta riflettendo, brutto, con lei sta sempre, ma non lo dice, e dove non lo può dire. Allora nel non poterlo dire però si crea un'altra situazione, che vanno avanti e vanno avanti, vanno più in profondità. Poi c'è un'altra cosa che forse è più generale, che loro si sono resi conto a dieci anni dalla scrittura di questa, dall'accadimento, che l'amore è incerto per tutti, che noi stiamo vivendo una fase in cui c'è una specie di fragilità collettiva, loro hanno capito e si sono sentite, parte di una storia più grande di loro. Elena l'ha sentito, raccontandola, perché alla fine dice la situazione in cui si trova lei oggi, cioè che è sola e che cerca qualcosa che sembra impossibile, e anzi, c'ha tutte amiche che stanno sole come lei. Dunque c'è quest'idea che il racconto è sì di loro e di quello che hanno passato, però c'è qualcosa che trascende, qualche cosa che è la domanda come ci si deve mettere insieme oggi, quanto possono durare le cose, quanto conta le differenze che sono create tra gli uomini e le donne con l'accambiamento totale della posizione delle donne. Tutti questi temi che sono molto, in quello che io scrivo, sono molto le domande frequenti e in questo caso dunque danno come appunto la sensazione di una torta riposata, cioè del senso che ce l'abbiamo davanti tutti quanti, c'è l'idea della cattedrale da ricostruire e da dire, ricostruire è difficile ricostruire una cattedrale, però si può scrivere work in progress, ci stiamo lavorando. Ecco, questi personaggi come tutti noi stanno lavorando a qualcosa. È molto vero questo ed è quello che determina la percezione che si ha continuamente nel libro di pagina in pagina che è quella di una pacatezza che è un po' sorprendente in una storia che ha dei risvolti così violenti, drastici, che è una pacatezza certamente della tua prosa, dei toni, ma anche più profonda. Cioè queste donne sono tutte, come dire, quasi pacificate, anche se si trovano davanti alle storture del mondo e dei propri sentimenti, ma c'è appunto il senso di un qualcosa che è stato lasciato a riposare e che fa sì che appunto questa gelosia che ti aspetti. Io non so sinceramente se dentro di sé Maria covi della rabbia. Ecco, un'altra cosa che mi pare assente, non c'è rabbia in questa storia. La cosa che dici mi viene in mente un segreto che vi rivelo. C'era un altro capitolo che abbiamo tolto e questo capitolo ogni tanto mi dico, ma io vorrei darlo ai lettori giusto come appendice, in cui proprio c'è l'idea della pacatezza che tu stai dicendo. Cioè si incontrano in un altro capitolo che ho tolto perché era più bello lasciarlo così, che non si incontravano più. Invece in questo capitolo loro si incontrano un'altra volta nella vita e poi in questo sentimento si incontrano, poi parlano in una casa in alto sul mare in cui il mare appare lontanissimo e tranquillo perché loro sono in alto. E dunque assolutamente quello che tu dici è, ma perché dico una cosa che sembra assurda, lo so che io sono una passionale, sono gelosa e tutto, però è anche vero che quando tu veramente incontri qualcun altro e lo conosci profondamente, non dico che diventi amica, loro non diventano amiche, sarebbe stato tutto fasullo e ne vedi tutti il limite anche perché lei in certi momenti ha anche come una sederezza per la ragazza, se vogliamo. Tu allora e la ragazza pure perché c'ha l'invidia per questa madre che non è sua madre, che però ha conosciuto tante cose, ha voluto fare tante cose e non li sono riuscite tutte. E dunque l'incontro con l'altra o con l'altro è talmente forte, gli sei talmente entrato nella sua storia e l'altro nella tua, che anche quei sentimenti cavolo diventano piccoli. Magari non per sempre possono tornare, tutto quello che uno vuole, però in realtà sono come visti dall'alto. Ecco, e qui vorrei arrivare ancora a un ultimo sentimento del quale vorrei chiederti e di come questo non si assente nel libro, ma ancora una volta ha declinato in un modo particolare, che è la nostalgia, che è una cosa che a me piace moltissimo, a partire proprio dal suo etimo originario, però che è un sentimento secondo me che può diventare molto complesso, non lo è sempre, ma mi piace molto. Ecco, di cosa hanno secondo te nostalgia queste donne? Non credo di Pietro, nessuna delle due, ma secondo me se c'è una che ha nostalgia di Pietro è Maria, perché se ne è liberata da un punto di vista di tutto quello che tu hai detto, che ci siamo dette, però in lei c'era fortissimo il sogno coniugale. Lei ha molto dentro questo fatto di avere una continuità nella vita e questo è finito per sempre per lei, mentre per Elena è finito un rapporto che l'ha molto colpita, per cui lei dopo dice io sono ancora sola dopo quella storia, però si può immaginare, si spera per lei. Ecco, Maria appare come una donna pronta anche a vivere un'altra vita e fare altre cose, però in cui quella nostalgia di cui tu parli è una nostalgia di una cosa che non c'è più e forse non c'è più neanche tanto nella società, diciamo, non è solo per Maria, è un po' in generale quella perdita, è una perdita di qualcosa, un equilibrio antico che non esiste più e che al suo posto non è che sappiamo tanto cosa mettere, diciamo, per cui quella è una nostalgia. Poi tutti hanno nostalgia, anche la ragazza, la ragazza ha nostalgia di quel momento in cui non avendo saputo niente di tutto questo, se la godeva tanto bene con le capelligne e beveva la sera con questo uomo. Certo, quello è... e l'unica che non è nostalgia è Rita, perché Rita che è un personaggio ambiguo, anche un po' cattivella, però ha dentro una... lei ha fatto il giro, quella cosa che le è capitata con la ragazza in Brasile e ha fatto fare il giro, cioè lì c'è un punto di non ritorno, c'è delle volte in cui i tuoi sentimenti passionali ti hanno reso sceca e tu hai fatto delle cose che, come succede a lei, una cosa di cui tu hai il senso di colpa tutta la vita, a quel punto lì non ci torni più, non hai nostalgia, stai nella tua vita presente, perché quello che hai avuto è stata una cosa che non vuoi più avere. Invece le due che hanno nostalgia sono tutta Maria e poi anche Elena. Però anche lì è qualcosa di non convenzionale e inatteso, perché in fondo forse se c'è qualcosa di cui... io penso che si possa avere nostalgia anche delle cose che non si sono avute mai. E forse la nostalgia di Elena per quella figura materna, o prima ancora che materna, femminile, perché Maria incarna un modello di vita. Ecco, forse c'è quello, ma anche qui è tutto sotto traccia, perché mi pare che nel loro dialogare Elena non dia a Maria troppa facilità nel raccontarle quanto lei la vede come un modello. Cioè loro sono in un dialogo alla pari, apparentemente. Sì, quando parlano tra loro, però in quei capitoli che a me piacciono molto quando sono gli ultimi momenti in cui stanno insieme, Pietra e vanno a fare quel viaggio ad Orvieto, lei vede quella coppia con i due bambini, lei ha nostalgia di quella cosa lì, è quella di la dava Maria con il racconto. Cioè lei sente che quell'uomo con cui sta ha vissuto tutte quelle cose con un'altra donna e l'altra donna è diventata l'altra e dunque ne ha nostalgia per qualcosa che lei sente che con lui non potrà vivere. Forse non lo potrà vivere neanche con altri, non lo sa, però lì sente qualcosa. Questo fa parte molto della mia, diciamo, formazione, anche di quello che, questo veramente è un po' un mio sentimento, ma credo che quando Elena l'ha provato non glielo ho imposto. Penso che è come se oggi le ragazze volessero avere questa libertà sconfinata di essere sempre un po' ragazze, e però, come dici tu, di fronte all'esperienza così densa della vita di una madre, di una donna, di una moglie, sentissero una nostalgia per qualcosa che loro non hanno avuto e non sanno come possono averla, soprattutto. Esatto, e forse non sanno neanche se lo vogliono, però in qualche modo sentono che si perdono qualcosa se non lo vogliono. Credo che abbiamo perduto tutto qualcosa nel, io credo che in questo c'è una sensazione di avere buttato via il bambino con l'acqua del bagno. Cioè il sentimento che delle cose che sono, infatti, la finale sui ragazzi, sui giovani, sui figli, che dicono, in fondo quando andavo a casa dei nonni, loro li criticavano tanto, io stavo tranquillo. E il bambino dice, ragazzo, ecco, c'è qualche cosa, non è che io non sono passatista di carattere, ho delle nostalgie, ma non è neanche, mi piace molto capire quello che accade. Però bisogna dire che, siccome hanno tutti agito per reazione a una cosa, forse qualcosa l'hanno gettata via senza rendersene conto. Certo, e io credo che questo libro abbia un ruolo importante, soprattutto per noi donne, per farci scavallare da una militanza, se vuoi, da una condizione di rivendicazione a una di riflessione. Assolutamente sì, se questo libro può fare questo, ne sono già molto contenta. Sicuramente, sicuramente a me l'ha fatto in un modo molto immediato, ma nello stesso tempo profondo. Cioè, dobbiamo porci in una posizione, essere capaci di cambiare il nostro approccio a noi stessi, ma anche a quello che è successo negli ultimi 50 anni, diciamo, di una condizione femminile. Peccato non poter dialogare con il pubblico, perché... Avrei risposto molto volentieri alle domande, ma verrò un'altra volta, quando forse tutto questo ci lascerà. Ecco, io ti ringrazio tantissimo e... Grazie a te. Ringrazio il pubblico che ci segue e ci seguirà su questa piattaforma a distanza, ma che in fondo serve per stare vicini. L'altra donna, pubblicato da Inaudi, Cristina Comencini, un bellissimo libro, è un bellissimo dialogo fra lettore e pagine, fra personaggi, insomma, non si può non incontrare questo libro. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie, grazie mille. A presto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti